Non dimenticheremo mai l'indelebile vergogna causata al paese dalla disfatta di Caporetto. Oggi possiamo lenire quel dolore, riconquistando le terre cadute sotto il gioco degli invasori asburgici. Prega per me, mamma. Prega per il regno d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Conquistiamo l'obiettivo! Grazie a tutti. 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 Occhio! Una mitraglia attricione nemica, no! Attenzione! Assaltatore nemico! Return to the combat area. Assaltatore nemico! Facciamo attenzione! Assaltatore localizzato! Artilleria nemica! We have taken the sector. Clear the sector from enemy presence. We have secured the sector. We have secured the sector! A sentry kit is available near your location. We have to conquer the objective! A sentry kit is available near your location. A sentry kit is available near your location. There's a gun! There's a gun! There's a gun! I see a gun! I see a gun! I see an aircraft! I see an aircraft! A gun! A gun! For the gun! A 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 gun! assaltatore teniamolo d'occhio c'è un assaltatore attenzione mitragliatrice attenzione mitragliatrice nemica ehi vedo un assaltatore mitragliatrice è una delle loro vedo un medico la c'è un assaltatore nemico un assaltatore nemico ne ho trovato uno ehi c'è una mitragliatrice ehi c'è una mitragliatrice mitragliatrice nemica localizzata la c'è un ricognitore la una mitragliatrice nemica visto un assaltatore la mitragliatrice nemica occhi aperti c'è un assaltatore ehi c'è un assaltatore c'è un assaltatore Sbagliatrice! Pelivolo nemico localizzato! Oh! 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 Return to the combat area. Attenzione, attenzione, soldato nemico! Half of our forces remain. Là c'è un assaltatore nemico! Fai! 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 No! We have taken the Sector. Clear the Sector from enemy presence. We have secured the Sector. We have secured the Sector. We have secured the Sector. A sentry kit is available near your location. We have secured the Sector. I've got a part. I have secured the Sector. Hey! There's a Sector! I've got a Sector! Visto! È un medico nemico! Visto! È un medico nemico! Visto! Un ricognitore! Visto! Visto! Return to the combat area. Visto! 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 Raggiù! Un assaltatore nemico! Visto! Vedo un ricognitore. Buon amico! 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 Conquistiamo l'obiettivo! Twenty of our soldiers remain. Buon amico! We have lost objective weapons. Buon amico! Buon amico! Buon amico! Buon amico! Buon amico! Our attack has failed, but this fight is not over. If we pull together like true Italians, then these walls of rock that face us, they will crumble, and the Empire will fall. No problem! WE ARE BEING REINFORCED WITH AN AIRCP! We are being reinforced with an airship. Grazie a tutti. A sentry kit is available near your location. Grazie a tutti. 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 Quello è un soldato nemico. Grazie a tutti. Attenzione! C'è un ricognitore! Occhio! Un medico nemico! Quello è un ricognitore! Attenzione! Assaltatore nemico! Assaltatore nemico! Facciamo attenzione! We have taken objective butter. We have taken objective butter. We have taken the sector. We have taken the sector. We have taken the sector from enemy presence. We have taken the sector. We have taken the sector. We have taken the sector. Sì, sì, sì. We have secured the sector. Vedo uno dei loro soldati. Avanti, conquistiamo l'obiettivo. Soldato nemico individuato. Siamo attenti, c'è un soldato. Contatto visivo con un soldato nemico. Conquistiamo quell'obiettivo. Ho visto un soldato. Medico nemico individuato. Siamo attenti, c'è un soldato. Siamo attenti! Siamo attenti! Siamo attenti! Siamo attenti! Siamo attenti! Visto! Uno dei loro soldati! Vedo uno di aerea nemica! Siamo attenti! Siamo attenti! Siamo attenti! Siamo attenti! Siamo attenti! Siamo attenti! No, no, no! 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 No, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Strolli i accedi, hai scopo! Granata per tutta, vieni la cazza! Ecco dai proiettili! Granata in buono! 50 of our soldiers remain. Lancia una granata! Occhio! Lancia una granata! Occhio! Lancia una granata! 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 Ascoltatori localizzati! Granata partita! Tenete giù la testa! Tieni! Munizioni! Our attacks have failed. The Austrians managed to hold their ground. We're going to put every last man into this coming attack. Our last chance to take back the fortress. Avanti Savoia! We are being reinforced with an issue. Let's go! 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 Return to the combat area. Let's go! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. un soldato. Un soldato nemico. Un soldato nemico. We have lost objective butter. We have taken objective butter. We have lost objective apples. We have taken objective apples. Contatto visivo. Contatto visivo con un soldato nemico. No. 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 A tutti. Buongiorno ric无量. Ceì a tutti. We have taken objective butter. Imbarcazione nemica, laggiù! Grazie! Half of our forces remain. We've lost Objective Apples. 2 Corinthians 1, 2010 1.170 Euro A sentry kit is available near your location. A sentry kit is one of them. Let's go. We have lost objective Charlie. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ricognitore nemico individuato. Ehi, vedo un ricognitore nemico. We have taken objective Charlie. Let's go. Clear the sector from enemy presence. We have secured the sector. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Soldato nemico individuato. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Contatto visivo con un soldato nemico. Let's go. Let's go. Quello è un carro nemico. Vedo un ricognitore nemico. Stefano! Tecchino! Ho visto una mitragliatrice! 50 of our soldiers remain. We have taken objective apples. Un soldato nemico! Troppo! Vedo un carro! Vedo un carro! Return to the combat area. Anche c'è un carro nemico. Aspettate il progetto. ranglare! Ho individuato un soldato nemico. Soldato nemico individuato! Mitragliatrice nemica localizzata! La! Quello è un ricognitore! Visto? Uno dei loro soldati! Sì! 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 Due of our soldiers remain. We have taken Objective Apples. There! There's a enemy! There! There's a enemy! There's an enemy! There! There's a enemy! Return to the combat area. No! I see a rifle! I see a rifle! Twenty of our soldiers remain. There's a enemy! Here's a enemy! Let's remove him! Medical! Let's go! Let's go! There! Let's go! Let's go! Let's go! To that! Though we have lost this fight, take her! For Italy is a newly born nation. When we have matured, when we are fully grown, our time will come. One can only speculate what an Austro-Hungarian victory would have meant for the future of Europe. It is possible success could have united the crumbling empire, allowing the Habsburgs to keep control of their countries, races and ethnicities for at least a few months longer. The Grazie a tutti. Grazie a tutti.